Dopo innumerevoli rinvii da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento, che ad un certo punto hanno iniziato a sapere di beffa per la città, il Museo Archeologico di Via Dante riaprirà il 23 luglio, a distanza di 7 anni dalla sua chiusura. All'interno del museo dovrebbe essere esposto il tesoro della signora, ritrovato in un locale interno alla Casa 1 di Monte Sant'Angelo e finora in esposizione nel Museo di Agrigento. Abbiamo appreso che oltre alla riapertura è stato ottenuto anche un finanziamento per la manutenzione e l'esposizione dei reperti. Dovrebbe pertanto essere scritta a breve la parola fine su una serie incredibile di rinvii che per anni ha privato Licata e i suoi visitatori di un'esposizione importante come quella del Museo Archeologico di Via Dante. Una buona notizia per la città di Licata, dopo tanti anni di chiusura, restituiamo alla città e viene restituita alla città il Museo Archeologico della Badia. Rientra nell'ottica della valorizzazione delle risorse che ci sono in città. Siamo convinti che dalla valorizzazione di ciò che abbiamo in città può venire fuori lo sviluppo del territorio. Un grazie a tutti coloro i quali hanno permesso tutto ciò, alla sovrindendenza e beni culturali di Agrigento. Non ci credeva nessuno, fino a quando dico giorno 23, non lo vedo aperto, è fruibile finalmente ai cittadini. È un risultato importante per tutta la città e speriamo che si prosegui in questa direzione. Intanto, dopo il crollo di una scala interna alla Grangela, con il ferimento di nove persone, qualcosa pare si stia iniziando a muovere anche per permettere la riapertura dei siti chiusi per ragioni di sicurezza dopo quanto accaduto all'interno dell'ipogeo di Via Guilamo Marconi. È stato l'assessore Ripellino a rendere noto come riapriranno a breve sia i rifugi antiaerei che la Tolossi di Via Marconi. Ieri, intanto, un gruppo di turisti, ospiti del Serenusa Village, appartenenti allo stesso gruppo di quelli più sfortunati incappati nella disavventura all'interno della Grangela, sono tornati nel centro città per continuare l'escursione interrotta forzatamente a causa di quanto successo.